Domenica si celebra in tutto il mondo la giornata contro la poliomelite. In questa battaglia contro questo virus il Rotary Club, il Club Rotary International ha lottato parecchio e ha messo fondi per la ricerca. Anche alla Spezia ci sono iniziative per questa giornata. Ne parliamo col presidente del Rotary Club della Spezia, Roberto Querci. Come mai questa iniziativa e in cosa consiste? Ma appunto come anticipato il Rotary è stato promotore già dai primi anni 80 di questa campagna di vacirazione per l'eradicazione della polio nel mondo. Campagna a cui poi ci sono unite naturalmente grandi organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fondazioni private eccetera. Noi vogliamo ricordare questa grande impresa che oggi vede praticamente la poliomelite solo in due paesi del mondo, mentre all'inizio erano circa 120. La vogliamo celebrare con una proiezione che faremo sul teatro civico della Spezia e che ha lo scopo proprio di far conoscere meglio ai cittadini quelle che sono le attività. Grazie. Grazie a tutti.